Con l'ondata di maltempo che sta caratterizzando la penisola e che sull'appenino abruzzese a campo imperatore sta portando neve, il Gran Sasso ha una grande opportunità, quella di rimanere l'unica stazione dove ancora si potrà sciare nelle festività pasquali, con una stagione vissuta in continua rincorsa caratterizzata da poca neve nei primi mesi di dicembre proprio a ridosso delle festività natalizie, ovvero nei giorni in cui si mette in salvo la stagione stessa. Adesso con neve sciabile in quota però è, a pochi giorni dalle festività pasquali, la palla passa al centro turistico del Gran Sasso, chiamata a gestire la battitura delle piste al meglio delle loro possibilità, considerando che nelle ultime settimane sono state moltissime le lamentele dell'utenza circa la manutenzione delle piste in quota. Tutto questo mentre il Gran Sasso sarà protagonista dell'arrivo il 12 maggio prossimo della tappa del Giro d'Italia che da capo raggiungerà proprio campo imperatore. Insomma i presupposti ci sono tutti per far rimanere centrale il Gran Sasso Italia, ma la domanda è sempre la stessa. Riusciranno le menti pensanti deputate a prendere decisioni a non perdere questa ennesima occasione per la montagna aquilana?